Cosa vuol dire centro di gravità permanente? Che cos'è uno shock addizionale? E di chi è la voce del padrone? E ancora, chi camminava lungo la prospettiva Nievski? Chi si riuniva al caffè della P? E c'entra qualcosa alla reincarnazione? In questo video voglio provare a rispondere a tutte queste domande e a ricostruire il messaggio nascosto nei testi dibattiato. Per farlo dovremo esplorare l'insegnamento esoterico di Gurdjieff. Preparatevi perché sarà un viaggio oltre i confini del mondo conosciuto. Sigla! Ciao beautiful losers, grazie per essere con me in questo nuovo episodio del nostro podcast Contro la musica di plastica. Prima di lanciarci su Battiato, volevo ricordarvi che ho già parlato una volta di musica italiana, nella puntata dedicata ai CCCP. Ho analizzato i loro dischi, il loro rapporto col punk e quello controverso con la politica. Se volete recuperarla trovate il link in descrizione. E tra l'altro il gruppo di Ferretti, nella sua reincarnazione CSI, ha anche eseguito una cover imperdibile di E ti vengo a cercare di Battiato. Quindi questi artisti sono collegati fra loro. E probabilmente un po' tutto quello che vi sto raccontando in questo podcast è collegato in realtà. Nell'introduzione ho parlato di un messaggio nascosto nei testi di Battiato. Può sembrare un'esagerazione. In realtà è stato lui stesso a rivelarlo in un'intervista. Il mio ruolo è questo. Attraverso la musica invio certi messaggi diretti alla vita interiore. Il mio compito è stimolare interesse intorno a una certa ricerca. E allora diamo retta al povero Battiato. Parliamo di questa ricerca. Chi era Gurdjieff? Un uomo di una certa età. La vita di Gurdjieff è ammantata da un mistero che lui stesso ha contribuito a creare. Gurdjieff nasce in una data imprecisata intorno al 1870 in Armenia. Suo padre era un cantastorie, primo di una serie di uomini straordinari che segnano la sua esistenza. Giovanissimo pensa di farsi prete nella chiesa ortodossa, ma la sua sete di conoscenza lo spinge a partire per un viaggio durato vent'anni. In Turchia studia sufismo con un maestro derviscio. La ricerca lo porta fino agli sciamani dell'Asia centrale, negli ashram dell'India, nei monasteri del Tibet. E tornato in Russia, a San Pietroburgo e a inizia la sua attività di maestro esoterico. Ma anche di venditore truffaldino commerciava tappeti e canarini a gente poco esperta, vendendoli a prezzi esorbitanti. Gurdjieff era un po' un trickster. Dopo la rivoluzione, la sua vita rocambolesca lo porta in Europa e si conclude a Parigi, dove vive per molti anni, tenta di riunire tutti i suoi allievi sparsi per il mondo e di fondare la sua scuola. Muore nel 49, quando il piccolo Franco Battiato ha appena due anni. E qual è il punto di contatto fra queste due vite così lontane nel tempo e nello spazio? Questo libro, Frammenti di un insegnamento sconosciuto, di Uspensky, che è stato l'allievo di Gurdjieff che ne ha trascritto e diffuso gli insegnamenti. Il libro viene tradotto in Italia nel 76. Battiato lo legge praticamente subito, appena uscito, e ha un'illuminazione. Ero in montagna, ricorda, in vacanza quando l'ho letto. Mi sono messo a urlare. Un riconoscimento eccezionale in quest'opera. Frammenti della biografia di Gurdjieff sono citati in due canzoni di Franco. Sentite qui. Percorrevo un giorno la Liteni in direzione della prospettiva Niewski. Ting! Chi parla ovviamente è Uspensky a San Pietroburgo che si dirige da Gurdjieff il suo maestro. Ed è ovvio che Battiato ha tratto ispirazione per prospettiva Niewski da questo passaggio e in particolare per due momenti salienti della canzone. Quando dice studiavamo chiusi in una stanza, che potrebbero essere tutti gli studenti, gli allievi di Gurdjieff, ma soprattutto quando nomina il maestro. Il mio maestro mi insegna a trovare l'alba dentro l'imbrunire. Gurdjieff parlava spesso del fatto di morire per rinascere. Ma questo lo vedremo meglio alla fine. E l'altro riferimento è vieni a prendere un tè al caffè della Pe. Il caffè della Pe era il locale parigino in cui Gurdjieff si incontrava con i suoi allievi quando appunto era esiliato in Francia. Lì parlavano spesso di reincarnazione, come si parla nella canzone appunto. Ma anche questa è una cosa che vedremo meglio dopo. Esiste in realtà secondo me un terzo riferimento più velato. In l'era del cinghiale bianco, Battiato, incontra questo misterioso uomo di una certa età. Ora, età può voler dire età anagrafica, ma anche epoca. In questo caso, forse più interessante, vorrebbe dire un uomo di una certa epoca, un uomo di un altro tempo, un maestro. E infatti quest'uomo dà delle sigarette turche a Battiato, che possono essere delle vulgare sigarette, o una metafora, un dono iniziatico. Infatti in Turchia c'erano i Sufi, che sono stati fondamentali sia per la formazione di Gurdjieff che per quella di Battiato. E adesso che ci siamo scaldati, parliamo di cose serie. Degna la vita di colui che è sveglio. Nell'era del cinghiale bianco, Battiato introduce anche un altro tema, il tema fondamentale da cui parte l'insegnamento di Gurdjieff. Dice l'ombra della mia identità. C'è una zona buia dentro di noi. Forse il nostro io non è così unitario come ci piace credere. Questa sensazione, Battiato, sembra averla avuta fin da bambino. Sentite qui. Da bambini si giocava sulle spiagge con degli aquiloni, a gara sotto il sole. Mentre guardavamo il mio salire verso l'alto, preoccupati che non si passe. La mia parte assente si identificava con l'umidità. La mia parte assente. What? Se lo chiede in modo esplicito, chanson egocentrique. Chi sono? Dove sono quando sono assente da me? E questa è appunto la domanda alla cui parte Gurdjieff. La risposta non è piacevole. Secondo Gurdjieff, l'uomo non è niente, perché non ha un io. Ogni nostro pensiero, ogni nostro desiderio, ogni nostra sensazione, dicono io. Emergono. Noi ci identifichiamo per un po'. Poi scompai, non emerge un altro, ci identifichiamo con quello, scompare e così via. Non abbiamo un io. E un uomo che non ha un io, secondo Gurdjieff, è un automa. Vive di reazioni automatiche. Non fa nulla. Tutto gli accade, come in sogno. Attenzione, automa non vuol dire lobotomizzato. Un automa è perfettamente in grado di vivere nella società civile, di avere un lavoro, di farsi una famiglia. Può anche diventare un capo di governo, un grande filosofo, un guru spirituale superseguito. Dipende se i suoi automatismi lo portano lì. Forse so cosa state pensando. State pensando, ok, interessante. Beh, io però non sono un automa. Sappiate che questa è la reazione automatica più comune di tutte. Domandatevi, ad esempio, quante volte al giorno vi ritrovate a guardare il cellulare in modo compulsivo? Se bastano la pioggia o il sole per influenzare il vostro umore? Quante volte vi scoprite ad essere sovrapensiero? L'unico modo che ha un automa per smettere di essere un automa è accorgersi che è un automa. La parte che se ne accorge, la parte che si sveglia, la coscienza, è quella che può trasformare il resto. E da questo punto è partito anche battiato, come canta in segnale di vita. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. E sentite personalità empirica. Quando non coincide più l'immagine che hai di te con quello che realmente sei e cominci a detestare i processi meccanici e i tuoi comportamenti, ti viene voglia di cercare spazi sconosciuti per allenare la tua mente a nuovi stati di coscienza. L'ode all'inviolato lo riassume così, degna la vita di colui che è sveglio. La voce del padrone Vediamo allora com'è fatto un automa e come può svegliarsi. Secondo Gurdjieff ci sono tre corpi. Il corpo fisico, il corpo astrale, che potremmo definire le nostre emozioni o l'animo, la psiche, e il corpo spirituale, la mente e i pensieri. Come funzionano normalmente questi tre corpi? Il corpo fisico subisce le influenze esterne, che generano in lui desideri. I desideri diventano pensieri. E ogni pensiero, dice io, diventa un piccolo io, questo guazzabuglio di io che vanno a formare la nostra falsa personalità. Un bel casino, ne converrete con me. Battiato lo descrive punto per punto. Corpo fisico, il desiderio cieco, l'animale che mi porto dentro vuole te. Dove te può essere una donna, un uomo, può essere il potere, il denaro, Dio, l'illuminazione. Corpo astrale, la cura fa un elenco di tutti i disagi, le disfunzioni della nostra sfera emotiva. Paure, ipocondrie, turbamenti, inganni, fallimenti, dolori, sbalzi d'umore, ossessioni, manie. E infine il corpo spirituale, il pensiero. Ti accorgi di come vuole abbassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. È possibile raddrizzare il funzionamento di questi tre corpi? Secondo Gurdjieff sì, se no si sarebbe limitato a vendere tappeti, giusto? A un certo punto Gurdjieff tira fuori il suo asso dalla manica. In realtà c'è un quarto corpo, il corpo divino, l'io. Quando questo corpo è sveglio, attivo, governa gli altri che quindi si riallineano, che è esattamente quello che intende battiato quando canta cerco un centro di gravità permanente. Gurdjieff descrive il corretto funzionamento dell'uomo usando la celebre metafora della carrozza che è già presente in molti sistemi religiosi e filosofici. Ci sono molti disegnini su Google, alcuni sono anche sbagliati. Attenzione, la maggior parte sono kitsch come un po' tutte le cose, le immagini esoteriche, quindi dovrete accontentarvi della mia descrizione. Il corpo fisico è una carrozza che non va da nessuna parte se non ci sono dei cavalli a tirarla, il corpo astrale. Ma i cavalli possono andare ognuno per conto suo, possono impizzarrirsi se non c'è un cocchiere che li doma, il corpo spirituale. Ma il cocchiere non sa dove andare. Per sapere dove andare deve ascoltare le indicazioni del passeggero della carrozza, la voce del padrone, l'io. Condisciplina contro le mie inclinazioni Ok Andrea, tutto molto bello, ma come si risveglia l'io? Secondo Gurdjieff, occorre innanzitutto imparare a ricordarsi di sé. In ogni momento, essere presenti qualunque cosa si stia facendo. Sembra facile, ma non lo è. Ad esempio, se vi chiedo che cosa avete mangiato a pranzo due giorni fa, probabilmente non lo ricorderete. Io non me lo ricordo. Questo perché mangiamo automaticamente, senza essere presenti. La presenza attiva un processo che Gurdjieff chiama alchimia interiore e descrive in termini quasi chimici, meccanici, paragonandola alla fotosintesi. Come la luce del sole induce una trasformazione biochimica nelle piante, così la luce della coscienza produce una trasformazione in noi, eliminando gli automatismi. Ma restare presenti è difficilissimo. Per questo Gurdjieff dice serve lo shock addizionale, che Battiato, come sapete, cita nella canzone Shock in my town. Cos'è lo shock addizionale? Lo shock addizionale è qualunque pratica, esercizio, strategia che ci forzi ad andare contro i nostri automatismi, contro le nostre inclinazioni naturali. Una vera e propria lotta contro se stessi, che Battiato descrive così. Ho attraversato la vita inferiore, seguendo linee per moto contrario, sfruttando per le mie vele flussi di controcorrente, cercando sempre le cause che mi hanno insegnato ad andare con disciplina, anche contro le mie inclinazioni. Anche contro il sesso, ad esempio. In un paio di canzoni, Battiato parla di come deprogrammarsi sessualmente. Tra sesso e castità, ad esempio, descrive il conflitto che crea in noi il tentativo di astinenza. Tao descrive una pratica taoista che consiste nella ritenzione del seme, ovvero non arrivare al punto in cui si eiacula o, in alternativa, nel momento clou, diciamo, premere sul perineo per bloccare l'eiaculazione. Attenzione, nel caso qualcuno di voi voglia tentare queste cose, sappiate che è una pratica sconsigliata dai medici. Consigliatissima, invece, anche dai medici, la meditazione, che è forse il modo migliore per mettere in pausa tutti i processi dell'automa. E Battiato ne offre quasi un bignami in ricerca sul terzo. Mi siedo alla maniera degli antichi egizi, coi palmi delle mani dolcemente stesi sulle gambe, il busto eretto e naturale, un minareto verso il cielo. Cerco di rilassarmi e abbandonarmi, tanto da non avere più tensioni o affanni, come se fossi entrato in pieno sonno, ma con i sensi sempre più coscienti e svegli. E di meditazione parla anche un oceano di silenzio, mentre questi temi vengono riproposti anche dalla canzone, secondo me, più bella di Battiato, l'ombra della luce, ma quasi in forma di preghiera. Come a dire che chi conquista il proprio io diventa padrone di se stesso. In realtà si apre a qualcosa di molto più grande. Meccaniche celesti Secondo Gurdjieff, l'uomo è governato dalle stesse leggi che governano l'universo, un po' come sosteneva l'antica massima ermetica, come sopra così sotto. Questo vuol dire che quando un uomo riesce a diventare padrone di sé, a risvegliare il proprio io, ad attivare il proprio corpo divino, ristabilisce la propria connessione con il cosmo. E questa apertura verso il cosmo è il soggetto di molte canzoni di Battiato, in forma di favole, ad esempio di No Time No Space, Via Lattea. In forma più lirica apre, ad esempio, vite parallele. Mi farò strada fra cento miliardi di stelle, la mia anima le attraverserà e su una di esse vivrà eterna. Personalmente, però, trovo che Battiato riesca a essere più poetico quando riconosce queste leggi cosmiche qui, sulla Terra. Ad esempio in segnali di vita, quando all'imbrunire guarda i cortili e osserva accendersi le lanterne e dice le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. O nella bellissima Gli uccelli, il cui volo descrive codici di geometrie esistenziali che manifestano le leggi assegnate a questa parte di universo. E quella degli uccelli è praticamente una danza, giusto? La danza, per Gurdjieff, è un modo straordinario di rappresentare simbolicamente e manifestare le leggi cosmiche. Parlando di Dervisci, ad esempio, spiega come i movimenti rotatori dei danzatori siano una rappresentazione simbolica dei movimenti e delle connessioni tra i pianeti, le stelle. E non c'è bisogno che vi dica io quanto Battiato ammasse la danza. Voglio vederti danzare il ballo del potere. Tutti i suoi dipinti di Dervisci rotanti sono tutte immagini di meccaniche celesti. Frammenti di verità sepolte Se avete avuto l'impressione che quella di Gurdjieff tutto sommato sia una forma un po' bizzarra di mindfulness, no, non è così. Gurdjieff, quando parla di corpo astrale, spirituale e divino, intende un vero e proprio corpo diverso da quello fisico. Quello fisico muore, gli altri corpi possono sopravvivere alla morte in forme diverse, possono attraversare lo spazio-tempo, possono ritornare, reincarnarsi. E il tema della reincarnazione ovviamente è fondamentale per Battiato. Credo nella reincarnazione, canta in vite parallele, in quel lungo percorso che fa vivere vite in quantità. Quello che io trovo più interessante di questo tema è la sua connessione col sogno. Per l'automa il sogno è uno stato inerte, passivo. Per l'uomo risvegliato invece è uno stato di coscienza in cui affiorano delle informazioni. Come Battiato canta esplicitamente in Caffè della Pe. L'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario o un padre di famiglia. E l'elenco delle vite precedenti prosegue anche nel mantello e la spiga. Correvi con la biga nei circhi, fosti pure un'ape delicata, il gentile mantello che coprì le spalle di qualcuno. E questo ci può aiutare a capire che forse anche quel passaggio misterioso nel bridge della cura non è altro che la visione di una vita precedente in sogno. Andavo per i campi del Tennessee. Come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me? Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. I riferimenti alla rincarnazione nelle canzoni di Battiato sono innumerevoli. Potete divertirvi a rintracciarli lungo tutta la sua carriera. Quello che secondo me è interessante notare è che la rincarnazione fa parte di questa connessione tra l'uomo e il cosmo, di questa meccanica celeste di cui facciamo parte. D'altro canto anche la scienza sa che noi siamo composti di atomi che vengono dalle stelle e quando moriamo in un modo o nell'altro prima o poi ritorneranno alle stelle. Quindi sì, è un grande ciclo di cui possiamo diventare consapevoli come recita la frase da cui siamo partiti. Il mio maestro mi insegna a trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ragazzi, è stato un video tosto, lo so. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Potremo continuare a parlare ancora a lungo perché Battiato ha scritto molte altre canzoni che non ho citato e la dottrina di Gurgelf ovviamente non finisce qui. Però voglio proporvi una cosa. Continuiamo la discussione nei commenti. Ad esempio vi lancio una domanda. Secondo voi, di cosa parla la cura? Pensando a tutte le cose che ci siamo detti in questo video, chi sono i personaggi che parlano? Sono due amanti? Sono davvero due? Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e sarò felice di rispondervi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Beautiful Losers per non perdere i prossimi episodi di questo podcast e anche per non perdere i videoclip degli artisti di Beautiful Losers che è un'etichetta e che come ogni volta vi invito a scoprire. Grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao!